Ieri mi hanno spiegato finalmente come riconoscere le angurie mature. Ne avevo un paio che erano andate e non lo sapevo. Vedete il codino qui, che è secco. Questo ancora un giorno o due dovrebbe essere pronto perché la base è ancora verde. Anche se è piccolo dovrebbe essere pronto. Poi vi faccio sapere appena lo apro. Passati due giorni da quando abbiamo colto l'anguria nell'orto, adesso proviamo ad aprirla insieme, vediamo se è pronta. Il colore è bellissimo. Adesso la assaggiamo e vi dico com'è. Anche la parte verso la buccia è rimasta dolce. Intanto voi guardate il video, noi ci mangiamo l'anguria. Ricapitolando, quando il ricciolino vi ho fatto vedere prima è secco, l'anguria è pronta. Buona serata a tutti!